Ambiente Musumeci, la regione ha il piano amianto atteso da 28 anni. Si sono voluti 28 anni di colpevole distrazione e ritardi, ma adesso finalmente anche la Sicilia ha il suo piano regionale per l'ambianto. Lo dichiara soddisfatto il Presidente della regione Nello Musumeci nel giorno in cui la Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato al Territorio preseduto dal Professor Aurelio Angelini ha dato il via libera all'importante strumento di pianificazione. Il prossimo passo sarà il decreto a firma dell'Assessore all'Ambiente Totò Cordaro, Autorità Ambientale nell'Isola. A quel punto la protezione civile regionale può procedere con le previsioni che ha fatto per quanto riguarda stoccaggio, smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali. È un'efficace risposta, continua il Governatore, ai comuni siciliani che sono in affanno per l'enorme quantità di amianto presente sui propri territori. Il piano consentirà di densificare la lotta contro lo smaltimento irregolare e bonificare moltissime aree della Sicilia. Ogni ente locale dovrà avvarare a sua volta un proprio piano e potrà valersi del lavoro svolto dalla regione che mapperà anche tramite foto satellitari la presenza di potenziali manufatti in amianto anche per evitare la rimozione in maniera arbitraria, un rischio per la salute e per le salatissime multe. Tra gli aspetti principali del documento anche le informazioni epidemiologiche aggiornate, le ipotesi sul fabbisogno e le tipologie tecnologiche degli impianti, i criteri di localizzazione e la definizione degli scenari nel breve, medio e lungo periodo. Grazie.